live, cioè in realtà siamo registrati ma mi piace dire 321 live caro è una vita, ma da quanto tempo è che dobbiamo fare una chiacchierata noi? Tanto perché tantissimo, tantissimo davvero che ci siamo connessi la prima volta e adesso invece abbiamo la grande occasione insomma la grande occasione di questa di questa follia che ho deciso di fare per il 2023 che è quella di fare ogni settimana provare a fare qualcosa, provare a migliorare o imparare insomma un'infarinatura di qualche argomento gli scacchi insomma in realtà sono partito con il freddo, mi sono buttato nell'oceano di Brighton dopo due anni di dolce fredde quindi ho fatto questo primo test, sono ancora vivo, questo mi sembra già una buona notizia e però gli scacchi mi hanno preso durante il periodo natalizio ho perso anche con mio figlio più grande e questo mi ha innervosito l'orgoglio ho detto basta mi immergo una settimana e chi meglio di te può aiutarmi a capirci qualche cosa di questo gioco diabolico anzitutto dove sei fisicamente? sono a casa finalmente dopo una marea di tornei in giro sono riuscito a trovarmi uno spazio a casa ma dove sei? a casa in che città? sono in un paesino in provincia della Brianza si chiama Bovisio Masciago non è famosissimo è un quarto d'ora da Milano tra Milano e Monza sono si 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 Bovisio Masciago peraltro io andavo a allenarmi a ping pong a Vedano all'Ambro pensa un po' e quindi insomma la direzione era quella lì dopo questa chicca tecnica che insomma non è stata particolarmente apprezzata per chi non ti conoscesse anzitutto che cosa fai nella vita? io faccio questo sono professionista di scacchi faccio parte della nazionale olimpica e durante l'anno vado a giocare a giocare tornei e quindi con e chiaramente questa con Montepremi e questa è la è la mia vita diciamo che passo quando sono a casa al tempo a studiare lavorare allenarmi per poi andare a giocare i tornei durante l'anno e competere a livello internazionale ok è quello che che fai diciamo di mestiere da quanto tempo lo fai? perché tu sei diciamo non sei diversamente giovane come me insomma quindi hai una lunga vita davanti quindi quando hai iniziato? guarda in realtà lo faccio da quando ho sei anni e quest'anno ne faccio 23 quindi sono sono 17 che gioco a scacchi non sarò diversamente giovane ma sto iniziando a vincere delle partite contro dei ragazzi per esperienza quindi immagina essere brutta 22 quando mi guardavo a tavola con gli altri come hai vinto oggi? hai vinto di esperienza il mio avversario ne sapeva ne sapeva meno ma non lo stiamo invecchiando e quindi lo faccio da 17 anni da professionista non da tantissimo diciamo che ho finito il liceo e poi ho deciso di intraprendere questa carriera a tempo pieno perché comunque è una carriera difficile bisogna lavorarci lavorare tanto come un po' in tutti i lavori bisogna dedicarsi un sacco di tempo e quindi da un da un tre annetti lo faccio a tempo pieno wow e hai vinto il titolo italiano se non sbaglio sì l'anno l'ultimo a fine novembre inizio dicembre quindi sono tornato campione italiano in carica esatto perché avevi già vinto in precedenza e quindi hai rivinto il titolo come funziona invece per le competizioni internazionali perché diciamo gli ignoranti come me vedono appunto Magnus Karsen e quell'altro che fanno la sfida poi Magnus Karsen che dice ma no io i mondiali non li gioco non so insomma non mi è chiaro come funzioni mentre in altri sport tu hai chiaramente qualificazioni tornei principali e poi c'hai i mondiali che sono punto clu è la stessa cosa negli scacchi è invito come funziona sì allora gli scacchi ci sono più tipologie di tornei ci sono dei tornei a inviti dove chiaramente c'è lo sponsor che mette il monte premi e poi sceglie i giocatori che solitamente sono Karsen e i nomi noti al top se no ci sono chiaramente c'è tutto il ciclo mondiale che finisce con un match tra il campione del mondo che in realtà quest'anno non giocherà Karsen perché appunto ha rifiutato ma di solito è tra il campione del mondo e che vince il torneo prima che si chiama torneo dei candidati al titolo mondiale è un torneo a 14 giocatori se non mi sbaglio dove si giocano tutti contro tutti e chiaramente bisogna qualificarsi anche a quello quindi ci sono una serie di tornei che ti portano a qualificarti al match mondiale c'è un sistema rating che è simile a quello del tennis in realtà dove ti danno un punteggio che si chiama Elo che viene aggiornato mensilmente e dà la classifica quello che è la classifica mondiale ok dove da lì chiaramente si vede chi è il più forte il numero uno il numero due e così si continua e tu come ti piazzi in questa classifica mondiale? ah io al momento sono circa sul sul 300 quindi diciamo che l'obiettivo è entrare in top 100 nel nel prossimo anno e mezzo perché ok a scacchi comunque si può giocare per tanto tempo non è come gli altri sport dove a 30 non so da calcio 35 c'è chi vabbè come Ibrahimovic è riuscito a tirare su fino a 40 anni però gli scacchi possono andare avanti fino a vero 55 anni alcuni alcuni anche 60 65 riescono a giocare quindi l'obiettivo è entrare in top 100 nel prossimo anno e mezzo quindi in pratica io ho ancora avendo fatto 50 l'anno scorso ho ancora 5 anni più o meno e poi poi ho finito la mia carriera inizierà cioè devo proprio velocizzarla molto perché non è che vado lontanissimo ok chiarissimo mi dici un'altra cosa quando tu prendi non so uno sport prendiamo il tennis ok il 300 del mondo se gioca contro Federer dei tempi buoni o se gioca adesso appunto contro insomma i top Bertini eccetera ovviamente fa il suo match nel senso può chiaramente vincere diciamo ha una percentuale più bassa chiaramente ma non è che non la prenda mai no non è che come se Nadal gioca contro di me a tennis negli scacchi mi domando quali siano i gradini cioè se tu giochi contro Magnus Karsen e c'è un livello di conoscenza completamente diverso oppure appunto è come a tennis semplicemente magari lui ha più esperienza dipende dal match se giochi dieci match lui ne vici otto tu ne vici due ecco mi domando come funziona no sul singolo match come in tutti gli sport non conta assolutamente niente c'è stato un campionato europeo a squadre dove l'Italia noi abbiamo battuto l'Azerbaijan che era tra le squadre più forti al mondo che è tra le squadre più forti al mondo si piazza tra le prime cinque quindi sul match singolo se io giocassi con Karsen potrebbe succedere di tutto è chiaro che se giocassi venti partite con Karsen alla fine del match diciamo che ne esco ne esco non proprio vivo ma ma sulla partita singola certo è più forte è molto più forte il campione del mondo è il più forte della storia però comunque si può si può strappare un pareggio si può anche vincere perché comunque è umano diciamo che hai preso quello che non perde mai hai preso l'esempio di giocatore che ha il record di invertibilità dello scandalo del del coso insomma e cioè nel senso è uno che magari avrà anche le sue giornate storte si 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 assolutamente è umano come tutti quali sono per te gli elementi che per la tua carriera nei prossimi anni faranno la differenza cioè che cosa determina che ci ritroviamo qua tra tre anni e sei nei primi dieci del mondo allora è l'allenamento è la parte più importante e bisogna investire molto su quelli che sono gli allenatori privati quindi quello secondo me fa tanto la differenza cioè lavorare con gente che o è al top in questo momento che però lavorano meno con le persone perché vogliono più giocare oppure giocatori che sono stati al top quindi questo è questo diciamo è il modo per arrivare in alto bisogna sempre lavorare con quelli che ne sanno che sono stati tra i primi tra i primi al mondo e ti possono insegnare davvero come loro sono arrivati lì perché nessun giocatore nessuno sportivo sa come arrivare se no se tutti sapessero come come arrivare ci arriverebbero tutti quindi quella secondo me fa tanto la differenza più fai come in tutti gli sport più ti alleni più più migliori e quando dici ti alleni in che cosa uno si deve allenare nello specifico un po' su tutto diciamo che il gioco si rivede in fase iniziale quindi l'apertura che è molto teorica dove la teoria si sta sviluppando in continuazione perché le mosse bene o male sono quelle anche se ci sono tante combinazioni di mosse in realtà le prime sono sempre più o meno quelle e poi c'è la fase del medio gioco e la fase del finale quindi il medio gioco è la fase importante perché ogni mossa che fai comunque devi prendere una decisione magari hai 4 o 5 alternative logiche e tu devi sempre cercare di giocare la mossa più forte poi si può bleffare ovviamente si può come un po' a poker anche infatti molti giocatori di scacchi sono bravi a poker bisogna mettere in difficoltà l'avversario il processo decisionale e il medio gioco è la fase più importante che fa la differenza tra quelli che sono i giocatori al top e quelli che sono i giocatori in realtà grandi maestri forti ma non ancora nell'elite mondiale perché quelli forti forti ogni mossa ti creano problemi ti mettono in difficoltà e ti fanno pensare sempre con la tua testa ma quando uno dice scusa ho un po' di curiosità mia e poi ovviamente voglio aprire la scacchiera che ho qua peraltro e quindi la nostra scacchiera virtuale trick e ci facciamo come dire un match e ti chiedo ecco una mano per capire capisci qualcosa di più però mi domandavo questo quando si parla di un giocatore di scacchi a parte che il giocatore di scacchi è sempre visto come un genio cioè uno forte e dice ah questo è un genio ha un cervello diverso lo metti lì e puoi elaborare quindi c'è questa fantastica immagine che 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 ti porti dietro insomma vi portate dietro quindi questo è un aspetto però quando si dice che un giocatore di scacchi può prevedere in anticipo tutte le varie combinazioni le varie mosse è una cosa che io iniziando a giocare dico boh non riesco proprio a pensare sì posso pensare a un paio di mosse in avanti ma non è che visualizzo 24 mosse in anticipo cioè boh non saprei neanche da dove partire è una narrativa questa così dei media o è una cosa effettivamente reale poi per chi gioca no vabbè è come se domani giocassimo una partita a ping pong quando vedo le partite ogni tanto guardo su su instagram o sui social vedo degli scambi dico vabbè buonanotte io la pallina non la vedrei mai no è uguale cioè c'è questa visione dello scacchista quasi come un alieno che gioca ma alla fine sono due eserciti che si scontrano tra di loro quando non dico che si giochi a risico non dico che sia uguale però alla fine hai due eserciti ok gli scacchi sono un gioco complesso sì però chiaramente diciamo che tutta questa visione è un po' mediatica poi è uscita anche questa serie no la regina degli scacchi dove le persone si immaginano dove c'era questa bet che si immaginava la scacchiera sul soffitto però alla fine alla fine vabbè non è così riusciamo a prevedere le mosse sì perché comunque noi nella nostra testa ci immaginiamo davvero una scacchiera con i pezzi che si muovono proprio quindi abbiamo questa scacchiera che si visualizza e noi muoviamo i pezzi tant'è che noi giochiamo anche senza vedere la scacchiera possiamo giocare semplicemente pensandola e con i pezzi che si muovono e dicendo le mosse cioè questo gioco si chiama blindfold o alla cieca appunto e riusciamo a farlo quindi sì riusciamo a prevedere le mosse chiaramente più un giocatore è forte più riesce a prevedere però però è tutta questione di allenamento non è non è assolutamente e e quando uno gioca invece in contemporanea più partite che vedi uno che gioca 10 partite in contemporanea diciamo è lo stesso procedimento semplicemente moltiplicato per il numero di partite o c'è qualche accorgimento allora c'è questo format che si chiama simultanea a cui ho partecipato anche molte volte dove ci sono delle scacchiere un numero fisso di scacchiere può essere 10 20 30 50 100 può essere quello che si vuole e mano a mano si gioca contro tutti ovviamente il livello degli avversari non può essere il tuo stesso anche perché una mossa devi fare in pochi secondi se no finisce a mezzanotte se hai 50 scacchiere e e quindi anche lì noi quando abbiamo un'ottima memoria visiva solitamente quindi quando abbiamo per esempio 50 partite noi cosa facciamo? facciamo una mossa su una scacchiera con un'idea magari non so spingiamo un pedone abbiamo un'idea specifica quando finiamo il giro quindi facciamo 50 altre 49 mosse e torniamo a quella scacchiera ci riviene in mente l'idea che avevamo fatto prima anche se abbiamo giocato 49 partite diverse dopo perché abbiamo un'ottima memoria visiva che si sviluppa giocando quindi questo è un vantaggio enorme degli scacchi e poi ci sono quelli che giocano 10 partite in contemporanea senza guardare la scacchiera e se ne ricordano tutte e 10 insieme me l'hanno proposto ma ci tenevo alla mia sanità mentale quindi sono ancora accettato no qual è fuori di testa fuori di testa i livelli degli scacchi quali sono? quando uno parte diciamo c'è il livello Montemagno zero poi c'è il livello principiante e poi che livelli ci sono? ma ci sono livelli diciamo c'è questo punteggio appunto elo che che ti identifica e ci sono tante categorie in Italia abbiamo tantissime categorie cioè si parte da non classificato che è quello principiante e poi man mano che si va avanti si diventa non so terza nazionale si chiamano seconda nazionale prima nazionale poi candidato maestro che è quella diciamo dove già un giocatore si identifica come semi esperto maestro nazionale e poi ci sono quelli che sono i titoli internazionali che sono riconosciuti dalla federazione internazionale che sono maestro fide maestro internazionale poi il massimo titolo che è quello di grande maestro quindi ci sono le le categorie quindi ci si rivede così è chiaro che è difficile passare di categoria ci vuole tempo e quindi non è non è una passeggiata diciamo e tu sei grande maestro si grande maestro che beh che figata cioè però dire scusa io sono grande maestro cioè no che dice mamma mia grande maestro è pazzesco quando è che sei diventato grande maestro? nel 2017 avevo agosto del 2017 avevo 17 anni mi ricordo ancora il torno di Barcellona ero diventato grande maestro sì e lì è solo un fatto di classifica come c'è per dire su chess.com che c'è la classifica ci sono i punti diciamo è lo stesso concetto nel senso quindi un grande maestro è tipo sopra i 2500 una roba così? esatto 2500 precisi è un grande maestro poi beh per diventare grande maestro servono anche quelle che si chiamano norme diciamo sono delle performance che devi ottenere nel senso che non basta arrivare a 2500 ma in tre tornei diversi devi fare tre performance da almeno 2600 quindi un po' di più di quello che è il livello di grande maestro se una stagione giochi malissimo a quel punto non sei più grande maestro il titolo resta sempre ti crolla magari il punteggio rating ma puoi tornare a a livelli inferiori che chiaramente poi i giocatori invecchiano anche inevitabilmente scendono con con l'elo e comunque il titolo ti resta sempre chiaro chiarissimo senti allora se sei d'accordo io condivido la scacchiera aspetta che vado qua sei stato disconnesso perché mi ha disconnesso chess.com peraltro non ho nessun tipo di affiliazione con chess.com ma mi sembra di capire che sia il sito ovviamente io sono andato subito a vedere il business di chess.com wow che numeri che fa però hanno appena acquistato play magnus probabilmente hai visto con con carcel tutto il team di carcel porca miseria dei numeri pazzeschi va bene allora io ti aggiungo a chess.com e diciamo l'obiettivo è quello di cercare di capirci qualche cosa di più sia per me sia poi per le persone che che ci stanno ascoltando e che magari sono interessate appunto al mondo degli scacchi allora qui ho partita standard 60 minuti ci bastano 60 minuti sì io sono il bianco non è a punti e faccio gioca così tac allora io ti do scusa il contesto da dove parto io così almeno hai un'idea io so come si muovono i pedoni insomma come si chiamano i pezzi i pezzi i pezzi ho una vagha idea di alcuni principi perché ho visto qualche lezioncina e allora il tema della centralizzazione prendere il centro sviluppare i pezzi insomma questi concetti di base qua e that's it e sono un 924 è il mio attuale ranking avevo passato anche mille ma nella notte ho perso qualche match e quindi sono sceso no sei già arrivato a giocare la notte è finita è finita posso dirti che è veramente crea dipendenza sto porca miseria di scacchi è incredibile cioè io la mia famiglia mi prende in giro adesso dicendo ecco sta giocando a scacchi ancora lì a giocare a scacchi allora parto vuoi che facciamo una prima partita che io gioco come farei e e poi tu mi dici ok va bene ho ho visto la lezione ah però non posso svelarti la mia tattica perché se no devo blefarla subito c'è questo video dove c'è Bill Gates che perde con Magnus Carlsen perché questo è l'altro aspetto secondo me interessante no che uno dice ma a volte tu colleghi l'intelligenza di una persona con la sua capacità magari scacchistica ecco già un pelo mi nervosisce voglio che essere sincero con te però arrocco perché nella lezione ho visto bisogna arroccare velocemente non so se sia una verità oppure sì 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 assolutamente meglio metterlo al sicuro qua so che con l'altiere vuoi venire a darmi fastidio ma io con il mio pedoncino sono pronto a fronteggiarti non sono messo male eh no 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 ok sviluppo i miei pezzi una grande difficoltà che ho è non pensare alle mie mosse ma farle in base anche alle tue ecco su questo ho varie perplessità ecco ad esempio quella mossa lì io non l'avrei mai fatta non capisco perché porti indietro il cavallo cioè non bisogna sempre andare in una posizione ah ok quindi vuoi venire da questo lato qua che non è il massimo non è una buona notizia per me di là dove c'è il tuo re esatto va bene non c'è problema io a questo punto ti minaccio protetto adesso sono un po' meno protetto mi sa ho visto anche la lezione su i punti da assegnare a ogni pezzo una roba del genere sì sì per essere per essere a conoscenza di quali di quali pezzi siano più forti di altri no perché chiaramente uno deve sapere se la torre vale più di un alfiere se vale più di un cavallo perché sennò poi quando si vanno a scambiare i pezzi uno magari finisce che scambia quelli sbagliati certo quindi sì questa regina mi mette un po' di tensione e di ansia se devo essere sincero va bene è sei lì è in zona è in zona infatti sono i fastidiosi adesso ho aperto la colonna F F sarebbe ah ok sì quella dove non ho peduli ok perché l'ho fatto perché le torri si muovono in verticale o in orizzontale in orizzontale sì si guardano tra i loro ma in verticale giocano contro l'avversario no chiaro se tu arrivi con questa torre qua c'è la torre la regina e anche questo alfieruccio molto fastidioso sì donna lì è arrocco è arrocco questa già questa arrocco segna la mia fine ma secondo te quando ho perso questo match cioè quante mosse fa ho perso questo match secondo te no in realtà perso no però quando quando mi hai mi hai mangiato alla nona quando mi hai mangiato il cavallo in F6 tra l'altro puoi anche toccare con puoi anche cliccare sulle mosse ti torni indietro non se c'è la notazione sulla destra quando mi hai mangiato il cavallo adesso non hai più l'alfiere quello che controlla le case scure e tu come vedi hai tutti i pedoni su casa chiara quelli al centro giusto sulla casa chiara quindi non controllano quelle scure perché i pedoni possono mangiare solo in diagonale giusto e quindi adesso se vedi ho il cavallo che può saltare in quella che è F4 quindi chiaro la colonna aperta e lì dovresti avere un alfiere per toglierlo il cavallo da quella posizione perché vedi da lì ti attaccherà la donna sarai in zona sul re quella è pericosa chiaro però io metto il mio pedoncino qua astutamente sì qual è il problema che arrivi dentro adesso con la torre regina e torre esatto cioè se io adesso posso mangiare il cavallo in F3 no? perché giusto quando ricatturi io rimangio con la torre funziona come nel risico per renderla semplice no? se gli attaccanti sono più i difensori si vince la battaglia così uno non sta tutte le volte a fare mossa per mossa e io in questo caso faccio un'altra però se uno conta o su quella colonna una donna e una torre due tu hai un difensore quindi vinco io per fare chiaro chiaro di qua non ne esco più metterò il re qui a proteggere anche un'ulteriore protezione un'altra cosa che non ho mai capito è se il re si deve muovere in un qualche modo in avanti oppure sta dietro protetto nell'angolino sempre un po' sfigato allora all'inizio meglio lasciarlo sfigato all'angolino perché comunque le mosse di re sono sempre a doppio taglio no? perché più lo avanzi più può essere scoperto quindi l'importante è che assolutamente sia dietro i pedoni quindi tu l'hai messo hai arroccato e hai il re dietro i pedoni che non è scontato perché se uno guarda le prime partite addirittura storiche che ci sono registrate i giocatori portavano il re davanti ai pedoni cose che adesso non si fanno più ma nemmeno un principiante quindi bisogna tenere il re dietro i pedoni quindi tu hai spostato i pedoni sulla terza traversa la scacchiera si viene in colonne traverse quindi hai messo il re dietro che va bene se vai davanti è un problema ok solo nel finale quando ci sono pochi pezzi e quindi non ho la possibilità di darti scacco matto a quel punto il re può essere un valore aggiunto alla partita quindi si porta in gioco perché se rimaniamo solo re e pedoni è chiaro che lo puoi muovere dove vuoi senza chiaro il problema che ho è che qua non so più che cosa non ho più niente da muovere sono bloccato dentro me stesso capito mentre tu stai arrivando ok sì questo è il motivo per cui bisogna avere una colonna aperta solitamente perché almeno puoi far giocare le torri le tue torri adesso bene o male dove vanno sono qua mezzo bloccate vengo qua così così potrei mangiarlo potresti sì però tengo tengo la ok a romperti le balle proprio mi sarebbe piaciuto invece che tu mangiassi così ti spostavi da questo un'altra cosa che ho notato è che più è veloce il match e più perdo facilmente meno tempo per pensare più faccio proprio errori clamorosi sì perché comunque i pezzi tiri fuori abbastanza bene quello che dicevo all'inizio la fase del medio gioco è quella molto complessa perché comunque l'apertura te la sei cavata anche bene messo tutti i pezzi comunque nelle case giuste poi però dopo è la fase in cui vengono un po' meno i concetti certo e bisogna creare del gioco quella è la fase molto complessa allora lì lì però regola ho uno due e tre pezzi che attaccano quindi posso mangiarlo perché ovviamente sono due ma si considera anche la regina che arriva dopo sulla stessa diagonale giusto quindi tre questa mossa la Magnus Karsen intimidatoria che a volte ho guardato un po' di partite di Magnus Karsen così e a volte dici ma questo è fuori di testa ma perché sacrifica magari un pezzo e non vedi la strategia sottostante quando dicevi prima che uno è anche un bravo giocatore di poker spesso vedi dei bluff clamorosi che dici wow ah eh l'hai l'hai chiamato il sacrificio quindi però scusa qua vabbè io mangio io mangio e sono ancora qua sono sopravvissuto in realtà abbiamo ah no hai un pezzo in più giusto cioè qua un pezzo in più è qualche miliardo ho una si chiama qualità in meno al momento perché ho un alfiere per una torre abbiamo una torre un cavallo a testa ho un alfiere per una torre ma adesso dopo lo scacco mangio questo cavallo e quindi ho alfiere e cavallo alfiere e cavallo valgono sei insieme e la torre vale cinque quindi quella è la è il conto dei pezzi quindi adesso meno male il cavallo e l'alfiere sono più forti di una torre e quindi perché essendo due pezzi comunque due pezzi diversi possono lavorare insieme mentre la torre deve fare tutto è più forte è più forte di un alfiere è più forte di un cavallo ma deve fare tutto la sola due pezzi possono sostenere la vicenda giusto ok quindi se io devo scegliere è meglio avere un alfiere e una e un cavallo rispetto a una torre sì 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 assolutamente a volte uno scambio equilibrato per esempio è alfiere due alfieri e un cavallo per una regina addirittura quello è uno scambio molto equilibrato che perché la regina in alcune posizioni è più forte in altre è più debole proprio perché dipende tutto da come lavorano i pezzi se i pezzi sono in case avanzate come in questo caso i pezzi comunque sono nella tua metà del campo qui adesso arriva lo scacco di scoperta si chiama come si chiama? scacco di scoperta cioè c'era non ho dato ho mosso la torre ma ho dato scacco di alfiere ok quando fai resign che dici ok abbandono a quel punto diciamo tu puoi abbandonare in qualunque momento si giusto qualsiasi momento uno io avrei abbandonato all'inizio del match ma vabbè no no ma guarda che guarda che la partita era buona ma la prima è dei pulli no? come si giusto giusto come si dice e qua vabbè ho perso è matto questo non posso fare niente ah no posso andare qua siamo vicini diciamo che siamo vicini alla gabbia abbiamo creato questa sorta di gabbia e adesso dovrebbe arrivare sì ok sì è la prossima non si può muovere perché c'è l'alfiere e la torre ah ok e basta dare scacco così ok senti quali sono dei concetti che potrei tenermi a mente mentre lancio la rivincita ovviamente perché non posso perdere quali sono dei concetti che potrei tenermi a mente per subito cominciare a provare a migliorare o appunto degli errori o delle cose da considerare oltre ai concetti che ti dicevo appunto così di base allora il concetto del centro secondo me è quello più importante ma ce l'hai assolutamente ok l'idea diciamo è quella di cercare anche di aprire una colonna per le torse se riuscissero aprire una colonna come ho fatto prima io in precedenza è tutto più semplice perché almeno hai una direzione in cui giocare tu hai visto prima si è aperta quella colonna lì e io ci ho portato le torri non ho fatto nulla di cosa intendi per aprire una colonna allora intendo la scacchiera si viene in colonne dalla all'h e traverse aprire una colonna cosa significa significa togliere uno dei miei pedoni da da una qualsiasi colonna così che le torri possano lavorare in maniera verticale io prima ho messo l'alfiere in una casa E6 quella dietro il pedone centrale adesso e quando ci sono cambiati gli alfieri ho rimangiato con il pedone quindi rimangiando con il pedone cosa è successo il pedone si è tolto dalla colonna F così poi le mie torri hanno avuto quella direzione lì così da giusto bisogna fare due mosse a quanto pare ok se non lo sapevo e quindi ok quindi quella secondo me è la cosa ok è uno dei concetti in più cosa si deve cercare di fare si deve cercare di occupare il centro più dell'avversario quindi se in questo caso siamo un pedone a testa al centro l'obiettivo non immediato dovrebbe essere quello di occupare il centro con più pedoni dell'avversario perché così se tu hai il controllo del centro esatto questa per esempio che stai facendo è un'opzione per occupare subito il il centro che puoi fare se hai il bianco tendenzialmente esatto perché il bianco ha il vantaggio negli scacchi perché cosa vuole fare avendo la mossa in più può subito occupare il centro in maniera più veloce del nero per esempio se si guarda questa posizione si vede che tu hai un pedone nelle quattro case centrali tu hai un pedone io no molto semplicemente giusto e se tu guardi il pedone essendo un esercito alla fine gli scacchi sono una guerra tra due eserciti molto semplicemente i pedoni sono i diciamo i pezzi che ovviamente valgono meno ma sono quelli che ti danno diciamo una ti danno lo spazio ti garantiscono lo spazio perché essendo quelli più scarsi sono i soliti soldati con gli scudi davanti no i pedoni i pezzi vanno dietro di solito ok e cosa succede se tu guardi il pedone in e4 ti garantisce dietro dove tu puoi muovere i pezzi liberamente ti garantisce tre traverse io avendo un pedone qui in in d6 con la casa d6 l'unico pedone avanzato che ho mi garantisce di muovere i pezzi su due traverse quindi in questo momento se tu guardi per esempio il mio alfiere campo oscuro quello vicino al re ha una casa certo i tuoi alfieri hanno tante case libere quindi questo è un vantaggio chiaro che hai più scelta quindi chiaro chiaro più facile anche sbagliare no? c'è chi dice che è meglio giocare con il nero perché hai una mossa in meno per fare per far l'errore no? eccala ok ok mi sento molto positivo su questo match questa sensazione che appena sbagli una mossa è già perso mi mette un'angoscia clamorosa ma guarda che gli scacchi sono un gioco tremendo se tu guardi tutti gli altri sport no? anche il ping pong no? dove tu adesso non voglio fare non voglio dire una castroneria no? ma il ping pong tu non lo so manchi la pallina perderai il punto e vabbè andiamo avanti hai tutto il tempo per recuperare certo gli scacchi è finita cioè gli scacchi fai un errore puoi fare 60 mosse buone ne fai una che è sbagliata e sei a casa è come non lo so se in una partita di calcio si fosse sullo 0-0 al 96esimo ma per ore perché la partita dura ore chiaro dove se prendi un gol è finita giusto è un gioco diabolico ad alti livelli infatti ad alti livelli è molto più stressante diciamo perché livelli inferiori fai un errore sbaglia anche l'altro ma se giochi con Carson sei sei per ore a dire se sbaglio è finita una domanda ma quanto devo cercare per dire io ad esempio muovo l'alfiere qua e la mia idea è cerco di andare a scambiare cioè cerco di metterti pressione e cerco di andare in un qualche modo a scambiare dei pezzi però non è che abbia una strategia qua semplicemente sto cercando di avanzare mettere pressione lì qua cerco di vabbè fare quello che dicevi tu libero la colonna questa qua con una torre dietro però quanto dovrei cercare come dire di di avere dei pezzi che si scambiano e quanto invece è una cosa che come dire non dovrei cercare o quando è che devo scambiare quando è che per dire questo pedone che questo cavallo che tu hai in F6 ha senso mangiarlo con l'alfiere sì no quando ha senso fare questo tipo di scambio ecco sì i pezzi si possono scambiare in qualsiasi momento ovviamente quelli di pari valore però bisogna capire quali sono quelli giusti no come dicevi te da scambiare bisogna per gli alfiere bisogna guardare i tuoi pedoni al centro se tu guardi i pedoni che al centro sono tutti su casa chiara quindi i tuoi pedoni cosa fanno controllano bene le case chiare perché mangiando in diagonale tutte le case chiare vicino ai pedoni sono controllati quindi il pezzo complementare è l'alfiere campo scuro per questo non devi cambiare quell'alfiere lì se tu cambi l'altro di solito devi cambiare l'alfiere che è sullo stesso colore dei tuoi pedoni centrali perché così almeno hai pedoni che controllano un colore e l'alfiere che controlla l'altro ok io dall'altra parte cos'ho il pedone centrale che è su casa scura quindi non dovrei cambiare l'alfiere che è un po' chiaro perché mi serve per controllare le case chiare però il pedone sta sulla casella chiara però se poi si sposta a quel punto cambia cambia il colore no si devi scegliere come se vuoi cambiare quell'alfiere poi devi spostare i pedoni sull'altro colore ah ok quella è il trucco diciamo perché sennò si finisce come nella partita di prima dove c'erano tutti i pedoni sul bianco e io sono entrato sulle case scure ok quindi questo diciamo un po' il trick ok quanto una mossa per dire io ho fatto questa mossa come dire interlocutoria chiamamola così un po' difensiva da dire ok tanto mi avvicino qua crea un po' di spazietto però mi domando quanto ogni mossa debba sempre cercare un attacco o quanto invece ragiono per delle mosse che siano così di passaggio come l'arrocco no cioè mi metto lì mi sistemo c'è una priorità che cerco di usare si si divide gli scacchi si dividono in due in due tipi di posizione e bisogna guardare i re quindi gli arrocchi se ci sono se si arrocca dallo stesso lato si può si può scegliere di giocare in maniera molto tranquilla diciamo come dicevi te fai la mossettina interlocutoria migliora un po' controllo delle case con questa mossa mi hai comunque chiuso un pochettino la diagonale nel mio alfiere quindi si può si può assolutamente fare in questo caso quando tu vedi hai roccato da una parte e io ho roccato dall'altra generalmente si cerca di creare un attacco il prima possibile perché tu hai tanti pedoni dove io ho re che possono essere spinti in maniera molto veloce per creare un attacco perché io comunque da dove ho re di solito non stai a spingere i pedoni stai bello protetto quindi quello che si cerca di fare è andare dritto sul re cercando magari di farmi spingere i pedoni per esempio se tu immaginassi il tuo pedone dove c'è la torre in h2 quello sull'h se me lo spingi fino a h6 la casa più avanzata possibile in questo momento e mi mangiassi il pedone in g7 con il tuo pedone a quel punto avrei re senza un pedone dell'arrocco quindi sicuramente più scoperto ok quindi questo è un po' la differenza quando si arrocca dallo stesso lato si fanno le mossettine ok ok questo è un buon concetto giusto quello che si diceva prima io lo devo cambiare per forza non mi è chiaro perché tu lo devi cambiare ma ok perché perché non ho case cioè io me lo cambi te questo intendevo non avevo case di muovere per l'alfiere non ho capito cioè il mio alfiere se tu clicchi sull'ultima mossa che ho fatto che è questo sì il mio alfiere se tu guardi non può andare da nessuna parte si cambieranno per forza questi alfieri perché sono lì si attaccano a vicenda e se io muovo l'alfiere lo perdo perché tutti i pedoni controllano le case di movimento del mio alfiere ok quindi qui così cosa ti manca mi manca mi mancherebbe una torre dietro al pedone E4 sì e c'è un ultimo pezzo che ancora è a casa è un cavallo che ancora non è uscito esatto installa lì ora io muovo il cavallo qua però ho visto che non bisognerebbe mai muoverlo lì perché non hai grande azione poi però almeno protegge il mio alfiere quando tu magari inizi a muoverti in giro vabbè che con quel cavallo però non è che puoi andare da tante parti sì esatto non è che sto attaccando l'alfiere in questo momento ok esco di qua esatto verso il centro ecco gli alfieri prima abbiamo detto che bisogna diciamo bisogna cambiare l'alfiere dove della stessa casa dei tuoi pedoni così in questo momento tu vedi i tuoi pedoni controllano tutte le case bianche bianco e l'alfiere nero in regionale di 1 le case bianche sono ben controllate l'alfiere controlla quelle scure il cavallo dove va questa è la domanda no? il cavallo sì l'hai mosso però adesso dove lo mettiamo sto cavallo lo lascia lì? il cavallo deve sfruttare deve sfruttare diciamo una casa protetta da un pedone perché il cavallo da solo fa ben poco il cavallo deve essere sempre protetto da da un pedone e quindi si cerca la casa più avanzata si chiama avamposto la casa più avanzata che non è controllata da nessun mio pedone che è protetta da un tuo pedone questo si chiama avamposto diciamo il cavallo esattamente tu vai lì in zona dove c'è il mio re può essere può essere dolori possono essere dolori mi ha fatto una mossa di attesa ecco questa non l'ho capita è una mossa di attesa per far capire che quando ci sono rocchi etrogeni è sbagliata questa mossa perché non fa assolutamente niente ok è una mossa che chiamiamo cortesia è una mossa di cortesia montemagnosa come dire non ti uccido subito ti lascio vivere per un attimo ancora ok fortifico giusta è giusta così sono diciamo tranquillo protetto la regina lì non può tanto andare in giro si in questo momento oggettivamente la posizione è molto superiore per te proprio perché hai un pedone in più al centro controlli il centro io sono tutto schiacciato mentre tu però comodamente adesso puoi puoi uscire come? beh perché io ho questo alfiere qua che lì non lo posso tenere appena mi muovo e tu puoi subito svincolare anche il pedone che c'ha in G7 e quindi questo alfieruccio qua ok sì però devo stare attento sempre a muovere un pedone dove c'è il mio re no? perché ok comunque quando spingi un pedone davanti al re devi pensarci sempre due volte sì tu prima dicevi che potevo spingere hai il pedone in G7 se questo viene avanti in G5 io ho questo alfiere che continuano a andare in giro per cercare di di scappare ok adesso vediamo allora la faccio così vediamo perché perché ti suggerisco le mozze cioè non vale così no adesso vediamo ah sì no un'altra cosa che ho notato è che alla fine della giornata arrivo quando gioco per dire ho giocato non so ieri ho giocato un po' di partite arrivo alla fine della giornata e inizio a fare degli errori clamorosi ecco solo per dire che questo è l'inizio della giornata ma però no come vedi la fatica mentale di quando si giocano tanti match no è durissima se tu se tu vieni a vedere se tu fossi venuto a vedere durante il campionato italiano ho bevuto una quantità di caffè da se mi avessi visto un medico mi avrebbe detto no no ma qua qua si muore però bruciamo talmente tanto durante le partite che comunque ci stanchiamo un sacco perché come dicevo prima non puoi stare un attimo tranquillo perché se fai la cavolata a livelli alti tra grandi maestri hai perso quindi bene o male devi sempre essere sul pezzo non è uno sport fisico perché bene o male non corriamo però siamo concentrati per ore per esempio ci sono partite che durano sette ore in sette ore non devi sbagliare una se non è finita quindi c'è uno stress che che è lo stress del novantacinquesimo al calcio è quello stress che dura ore e tu direi perché hai scelto sto gioco a livello professionistico ci sta bella domanda ma però comunque regala l'emozione è da un lato meraviglioso veramente lo trovo meraviglioso i scacchi e poi l'odio dei giorni che veramente ieri ho detto bastardi cazzo vi odio tutti voi pedoni cose scacchi e poi a volte che hai lì davanti e non vedi la mossa ecco anche questa ah ok 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 perché perché muovi la regina così lì a passeggiare è perché vuoi svincolarti non ho spazio per i pezzi devo muoverli tutti quello che ti dicevo prima se tu porti i pedoni avanti al centro poi hai tante case per i tuoi pezzi la mia regina si può spostare in poche case giusto vabbè in questo caso vado di attacco globale termonucleare bravo ora vedi perché questa spinta che ho fatto prima in G5 questa che mi hai detto adesso si vede perché è molto pericolosa certo perché ancora una volta ho messo i pedoni come ho fatto ho messo tutti i pedoni sul nero e sono rimasto con l'alfiere campo scuro giusto e dopo vediamo il perché è un problema allora adesso nel tante io qua onestamente penso di vincerla questa te lo dico non vedo come sono qua in totale controllo sono avanti avanzo sembro Ronaldo pronto capito a colpire ah infatti è disastrosa per me qua allora abbiamo scherzato fino adesso dobbiamo fare almeno un paio di mosse ok io almeno un pezzo sopra la terza traversa vorrei portarlo vorrei morire così ti attacco la regina attenzione se no poi questa è la classica che la lasci lì e spacchi tutto tutti dicono sport tranquillo e tutto ma se lasci una regina impresa mi spaccarà tutto no no questa questa resta con me però questo cavallo infastidisce un poco i miei piani sì ero tutto contento ora aspettiamo come ti sembra l'idea di avere dei pedoni che vanno così in diagonale uno dietro l'altro tutti belli questa si chiama catena pedonale proprio ha un nome pensavo perché l'hai fatto più volte quindi pensavo lo sapessi se ci sei arrivato da solo bravo esteticamente mi sembra carino è giusta perché si difendono l'uno con l'altro e quindi cosa succede se io voglio mangiartene uno devo andare se io voglio romperti questa catena voglio mangiarti devo andare alla base della tua catena che è quella più lontana è improbabile che adesso ti vada a mangiare il pedone line a 2 con cosa quindi è un'idea giusta portare i pedoni così si chiama proprio catena perché ognuno difende quello vicino ora la posizione per te è vinta oggettivamente sì oggettivamente cioè non vedo come posso perdere però non vedo neanche come possa vincere e ho questo piccolo dettaglio esatto questa è la fase allora per vincere la partita bisogna andare sul bersaglio grosso più o poi o mi mangi dei pezzi o vai sul bersaglio grosso due sulle cose quindi per andare sul bersaglio grosso che è il mio re devi aprire delle colonne sul mio re quindi devi togliermi quei pedoni per questo quando io ho spinto il pedone lì in g5 è stato molto pericoloso certo perché adesso tu quel pedone puoi subito puoi subito proporre uno scambio giusto con i tuoi pedoni sì corretto esatto va bene vado così che minaccia anche il tuo cavallo e quindi in un qualche modo devi mangiare oppure scendere mangio mangi e adesso sì possono essere problemi storto l'alfiere bravissimo è vero il silenzio perché ho visto che stai toccando il cavallo e questa mossa è devastante bravo perché sembravamo eh sei lì no? ok bravo la mia idea è che cioè o lo o lo sposti sì però dove vai? ah no beh puoi andare dietro al dove? al se tu se tu clicchi col tasto destro una casella te la selezione cioè te la colora di rosso così me la fai vedere ah ok cioè puoi andare qua esatto posso andare lì però l'alfiere in questo momento vedi che sta difendendo il pedone giusto certo se no però molli il pedone certo oppure torni di qua esatto ma se torno di lì l'alfiere poi non controlla una casa importante che sarebbe dovuta essere controllata dal pedone quello ti dicevo prima il pedone in g7 che casa avrebbe controllato il pedone in g6 dove c'è l'alfiere un pedone esatto lì il pedone controlla le case in diagonale di uno no? perché è quella che può mangiare controllava l'h6 e anche l'altra giusto e f6 quindi se io ti lascio quella lì c'entra un bel cavallino e il cavallo lì dà scacco al re attacca la torre e la regina e buonanotte vicidiale quindi non posso toglierlo da lì ah esatto adesso ce n'è una che la chiude questa già è difficile però quella che la chiude quella che la chiude è molto difficile come boss è un concetto che si chiama the rook lift si chiama scacchi concetto già avanzato eh questa è tirato fino adesso ok nozioni un po' generali bisogna che hai seguito in questa partita hai visto come tutto sta risultando molto più semplice della partita di prima perché prima sapevi cosa fare qui vedi che i pezzi sono andati tutti nella direzione giusta quindi per attaccare il mio re cosa ti serve allora il cavallo ovviamente che è già lì esatto bravo si chiama the rook lift perché voglio arrivare lì voglio arrivarti lì sopra di modo che in un qualche modo esatto e quindi qua cosa succede succede che la partita è inuta per te quindi io faccio parto di là bleffo di là perché sono arrivato con molto ritardo tutte queste mosse visto che se stai lì a cincischiare non sai cosa fare al posto di fare qualcosa di concreto finisci che tu sei andato nella direzione giusta io sono rimasto a casa quindi adesso cosa succede adesso l'alfiere è perso ok l'alfiere è perso quindi adesso c'è solo da dare scacco matto non sarei così certissimo che questo scacco matto ecco sì sì non è non è immediato però diciamo che siamo vicini quello sì una cosa che noto è che spesso arrivi lì e non avendo un'idea delle chiusure fai delle cazzate cosmiche che dici ma come era vinta no e poi ti ciulano un pezzo all'ultimo robe del genere insomma sì penso che sui miei che mi hanno visto giocare per per un sacco di tempo e comunque quando mia madre deve dare matto con redon contro re sono dolori sono problemi perché non ce la fa eh non ce la fa ma tu si perché questa bravo si chiama inchiodatura perché tanto tu non puoi mangiare giusto esatto questa è l'inchiolatura sfrutti l'inchiolatura dell'alfiere si chiama proprio un tema perché non posso non posso mangiare devo spostarmi e giustamente sì come dicevi quando c'è da chiudere c'è solo da conoscere i pattern questo è uno l'inchiolatura i pattern fondamentali attacco doppio inchiodatura c'è lo scacco di scoperta quello che ho usato io prima bisogna fare un po' di tattica questo è un esercizio di tattica quello che hai fatto te che hai risolto purtroppo molto bene purtroppo per me ecco adesso ok la posizione è persa quindi io faccio così e adesso faccio così tu puoi giusto esatto visto com'è tutto molto più no quindi praticamente ricapitolando diciamo concetti principali sviluppare i pezzi diciamo cercare di prendere il centro diciamo come macro concetto sviluppare i pezzi quando cioè cominciare a far uscire i pezzi e quindi non tenerti lì chiuso un'altra cosa che hai detto cercare di liberare una colonna per poter avere possibilità di portare avanti un attacco scambiare se ho i pedoni centrali su casa bianca avere l'alfiere su casa nera quindi non scambiare l'alfiere che prima io invece scambiavo a caso così ok e basta facile cioè gli stacchi è finito è tutto qua alla fine si vede che è un gioco complesso però con questi concetti hai visto che alla fine si è andato nella direzione giusta poi è un gioco è un esercito due eserciti e devi chi taglia la testa re vince per una battaglia medievale l'altra domanda che ti faccio hai tempo facciamo un ultimo match devi scappare ti do una rivincita se vuoi insomma se solo avessimo giocato coi punti porca miseria va bene rivincita cosa ti volevo dire un problema che che ho è questo io mi rendo conto che quando parte il match il prima possibile voglio che succeda qualcosa cioè perché se no dico ma quanto a quanto dura sta partita b perché magari devo andare a prendere i miei figli a scuola quindi ho anche questo problema logistico però quanto dura questa partita e poi cerco sempre come dire di andare all'attacco immediato no il matto in quattro mosse queste cagate qua quindi mi domando ecco nella tua testa come ragioni cioè è una progressiva un attacco progressivo è una pressione progressiva è qual è il modo giusto di di affrontarla sì purtroppo con la storia che gli scacchi hanno preso un po' di ci sono diventati abbastanza famosi nel periodo quella della regina degli scacchi molti si sono messi a guardare un sacco di video come dare scacco matto in tre quattro mosse esatto ci sono tutti questi video e la gente se li ha guardati perché ovviamente quando uno vuole guardare un video non si guarda il video di due ore della partita più bella della storia degli scacchi ah guarda quello che si è preso matto in due mosse giustamente più carino quindi lo sanno tutti quindi noi non cerchiamo subito di creare qualcosa ma portiamo prima come hai fatto da prima si porta prima i pezzi non si vince più in dieci mosse a scacchi è molto raro molto molto raro a qualsiasi livello anche se io domani giocassi con un principiante giocassi una partita di torneo non vincerei in dieci mosse non ce la farei in venti sicuramente in venticinque ecco adesso devo giocarne una ti faccio vedere come gioco un mirale maestro adesso così ok l'altra cosa che ho notato è che in generale con i neri sono abbastanza in crisi cioè già appena hai mostrato al fiero pensato that's not good that's really not good si non devi pensare che subito ti sto facendo qualcosa di pazzesco e sto lanciando un attacco devi svilupparti in maniera simile a quella di prima perché adesso tu hai visto il cavallo lì al lato della scacchiera per proteggere F7 questa era la mia paura che scendevi subito con il cavallo e a quel punto ero ah no non potevi scendere col cavallo perché avevo la regina giusto esatto per quello sì di solito prevenire è meglio che curare però a scacchi è un po' diverso senza fare giri pazzeschi per per un'eventuale minaccia hai dovuto muovere già due volte lo stesso pezzo e di solito cosa si fa in un'apertura si cerca dentro c'è il cavallo giusto stava andando vedi stavi andando dritto 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 si vedo che vai eh vai dritto come dire l'attacco non mi piace star lì a aspettare vedi ecco poi arrivi e questo mi infastidisce un po' eh sì questo è il problema è che se tu parti e ti lanci in un attacco quando hai il nero che hai un tempo in meno finisce così non l'ho neanche vista questa eh quello è il problema cioè con il bianco puoi permetterti di essere un po' più aggressivo con il nero almeno all'inizio devi per questo è più divertente giocare col bianco ovviamente ok tac cavallo è di una difficoltà sto gioco porca miseria eh sì in realtà dipende bisogna sì non è come gli altri giochi che si capiscono al volo meno male non lo so accendi la televisione guardi il campionato di freccette e lo intuisci poi vabbè lanciare la freccetta e il triple 20 te lo sogni proprio però è intuitivo oh no no la cosa che questa è generata storta la cosa che poi odio di questa roba qua è che a volte ci do su questo sito qua non puoi mai tornare indietro no scusa ho sbagliato posso rifarla ma porca miseria non posso rifarla è qui sì questo è il problema di quando si muove abbastanza velocemente poi è difficilissimo ma vedi che così è molto difficile giocare appena inizi ad andare un po' più rapido è incredibile come un processore che non riesci neanche a pensare a quali siano le mosse possibili quindi tu dici sul nero tendenzialmente sto più difensivo cioè parto meno ad minchiam all'attacco ma sto un po' più attento a a piazzare la mia difesa sì 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 che non vuol dire che devi difenderti proprio a catenaccio però di non lanciare subito un attacco perché il bianco parte con una mossa in più quindi potenzialmente ha un pezzo in più sviluppato in gioco ha una superiorità numerica quindi al fine avere un pezzo in più che gioca non è non è cosa da poco soprattutto all'inizio quando i pezzi sono pochi che escono cioè se siamo non lo so sei a cinque si può magari creare un attacco però se siamo due a uno due vetture a uno solo fuori io ne ho due è difficile che ti faccio una domanda se prendo torno qua esatto io diciamo questa apertura sono partito normale no cioè qua non è che ho fatto qualcosa di sbagliato non posso aver fatto qualcosa di sbagliato normale cavallo tu esci con l'alfiere in questo caso tu dici di ignorare completamente questo diciamo il pericolo che c'è qua e di sviluppare magari il mio cavallo normalmente cioè quale sarebbe stato il modo giusto perché io mi sono ho spostato subito adesso non so perché non riesco a riportare indietro però la faccio la tastiera in questo caso tu dici sviluppo i miei pezzi allora in realtà se tu muovi il cavallo in f6 come ho detto te verso il centro c'è questa linea è vero teoricamente si può saltare con il cavallo attaccando il pedo del f7 di quello di quello bisogna preoccuparsi secondo me la cosa più logica qui che faccio anch'io per evitare proprio quella è muovere prima l'alfiere quello l'unico che si può muovere lo sviluppi tipo in c5 esatto la casa lì e poi dopo quando fai quella puoi muovere il cavallo e arroccare così la torre quando arrocchi protegge quel punto lì che è un punto comunque molto delicato chiaro chiaro però se tu metti subito il cavallo al lato è vero che hai protetto il pedone però a che costo no? ti sei bloccato qualunque tipo di altro movimento esatto ok Luca vuoi l'ultimissimo match? penso di vincere questo vai va bene ho mio figlio di 13 anni che si è messo in testa che lui può battermi a ping pong ok? semplicemente dicendo se noi giochiamo ogni giorno prima o poi vinco per statistica e non capisce che non è un fatto non è che se io gioco con te per due ore al giorno vinco prima o poi per statistica no cioè ci sono dei livelli dove non succede niente cioè se non hai una competenza non può non può succedere niente bene però adesso sono io c'era stato quel ragazzo hai fatto anche il video no? di quello che voleva battere Carson assolutamente ha fatto il video ed è quello diciamo è anche interessante perché è un po' tutto il tema del di quanto sia facile anche sui social creare questo tipo di no cioè se io domattina dico ragazzi mi sono allenato tre mesi e adesso divento il campione del mondo cioè è facile creare un'illusione no? la gente si fa facilmente prendere ok praticamente hai copiato le mie mosse adesso non voglio dirlo però mi sembra ma tutti odi sono già nervoso capito? questo è il problema cioè già sono sotto pressione arrocco tranquillo proteggo il mio F2 poi queste sigle ma non potevano dargli dei nomi a ogni singola casella non so non si capisce mai questo proteggo tutto protetto tutto protetto esatto tac mmm interessante mossa del Moroni questa così ma tu hai iniziato da piccolino così perché magari tuo papà tua mamma giocavano perché ti veniva cioè così allora in realtà la storia è sì per caso ho iniziato perché io ho mio fratello che ha otto anni in più di me quindi lui va bene andando a scuola e tutto mi insegnava sin da piccolo le cose dei grandi no? e quindi mi insegnava a contare e e non so come mai da bambino avevo sta fissa che volevo giocare a scala 40 io la sera con i miei prima di andare a dormire no? ci sono bambini che guardano i cartoni animati io avevo voglia di giocare a scala 40 e giustamente con tutti quindi mia madre ha detto eh no 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 assolutamente no quindi cosa ha fatto giustamente ha detto mio padre ma insegnagli la dama così te lo cucchi te e io faccio le mie cose giusto perché è la scusa ufficiale che voleva doveva aveva le cose da fare da stirare però fatto sta che gli ha detto te lo cucchi te quindi ha tirato fuori sta scacchierina con quella brutta piccola che aveva non so se ce l'hai forse c'è in molte case con gli scacchi la dama è dietro un gioco simile a un tris non mi ricordo dove devi mettere pedine della dama devi fare gioco che non so nemmeno ho visto i pezzi degli scacchi tutti diversi ho detto vabbè mi insegno questo e da lì ho iniziato è arrivato un volantino poi a scuola con un torneo mi sono iscritto ho fatto la mia grandissima figura ho fatto un bel mezzo punto su nove un pareggio tutte sconfitte e il pareggio l'ho conquistato perché il mio avversario mi ha dato stallo quando avevo solo re non ho fatto una grandissima un grandissimo salvataggio questo per far capire che quando si inizia ma l'hai subito capito ma l'hai subito capito che eri fuori categoria nel senso eri già cioè che era proprio una roba che sapevi fare eri in grado di farla sono stato fortunato sì perché si può dire tutto quello che si vuole ma alla fine nello sport sai bene che bisogna vincere non ce n'è di storia e sono stato fortunato perché il secondo torneo che ho fatto è stato il campionato regionale Anderotto e l'ho vinto quindi da lì diciamo che il bambino che torna a casa con la coppa avendo vinto il torneo mi ha dato quella spinta extra perché ci sono molti bambini in realtà che hanno talento però magari giocano tornei e all'inizio le perdono e si stufano il bambino che perde tutte le partite e purtroppo scacchia così se non si gioca tanto con i bambini della tua età e ma giochi subito con gli adulti il mio primo torneo l'ho fatto con gli adulti e l'ho perse tutte dovevo fare l'ho appena iniziato quindi quella è stata la mia fortuna ho vinto il primo con i bambini e basta e da lì è iniziato avevo visto il documentario su Magnus Karsen però diciamo è una cosa che avevi subito dentro comunque anche da da ragazzino o è stato il fatto poi di cominciare a fare gare e avere dei risultati perché ad esempio io a ping pong ero non ho mai avuto talento mai una mano di pietra proprio però ho iniziato a competere e dopo un po' ho iniziato a vinciucchiare ho detto beh insomma questa cosa forse conviene e poi l'allenamento diciamo ha sopperito al talento insomma fino a un certo livello chiaramente tu invece come dire inevitabilmente comunque avevi gran talento sin da ragazzino insomma c'era qualcosa che in un qualche modo ti riuscivi a fare ecco che gli altri riuscivano a fare sì il talento a scacchi è la cosa più importante soprattutto perché non puoi far lavorare un bambino come un dannato quando ha otto anni cioè io non facevo niente meno male ci sono molti giocatori anche a scacchi che non hanno talento o hanno poco talento ma con il lavoro comunque riescono ad ottenere un ottimo livello però comunque arrivano un po' tardi perché da bambini quando si inizia il bambino di otto anni non sta a studiare scacchi cioè puoi puoi fargli fare qualche esercizio di tattica puoi fargli fare qualche partita ma non puoi pretendere che si metta a lavorare no? quindi sì fortunatamente il talento mi ha aiutato un sacco senti qui non sto capendo che cosa diavolo stai facendo cioè non ho capito insomma sto andando sul tuo re veri che sto portando ho portato la donna prima in E8 poi il pedone in F5 così che la mia donna può entrare su quella diagonale può andare magari in G6 così da poter attaccare il tuo re e la torre è lì può avere un po' di gioco certo anche io vorrei fare la stessa cosa ok ok questo ok non preannuncia niente di volo eh qual è il problema di questa no? che tu entri col pedone io mangio col pedone però tu hai anche la torre lì quasi un problema più grosso ah porca miseria certo hai quel diavolo di cavallo non se ne è accorto nessuno non se ne è accorto come spieghi il fatto che ho guardato per quattro minuti la scacchiera e ho pensato questo sì questo no qua non può mangiare e poi muovo esattamente dove il cavallo può mangiare la regina è un fatto di disattenzione è un fatto di non conoscenza di che dimentichi guardi e poi dimentichi non so non so è allenamento perché comunque tenersi a mente tutte le mosse che puoi fare tutte le mosse che non puoi fare serve serve allenamento perché ma succede succede anche ad alti livelli meno eh ma mi è successo di dire faccio questa la calcolo mi accorgo che non va bene e allora ne guardo un'altra quando non va bene torno alla prima scordandomi perché non andasse bene e la gioco e poi dico vabbè allora sono pirla però e perdono è normale è normale vado di qua mi sembra l'unica mossa possibile per non perderla tu ti definisci un giocatore come dire aggressivo più difensivo all round cioè come ti definiresti come giocatore allora quando diventi grandi maestro devi cercare di essere il più completo possibile quindi questo è quello che sto cercando di fare però sono più in realtà è un po' strano perché sono sono un giocatore a cui piace comunque avere del gioco cioè non posizioni del tutto del tutto tranquille in cui non lo so magari devi continuare a manovrare mille volte girare con i pezzi fino a quando trovi un barco però non sono nemmeno il giocatore a cui piace lanciarsi proprio in un attacco dritto per dritto senza avere il controllo di quello che succede quello non mi piace perché alla fine uno rispetta anche quello che è il suo carattere nella vita lo si vede nel gioco quando gioca a scacchi quindi mi piace una posizione un po' squilibrata ma non folle questo è il mio stile e come spieghi che Magnus Karsen sia in questo momento così forte così cioè qual è il motivo per cui è uno così lavoro sa tutto sa tutto 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 sa cioè tu arrivi con Karsen e sai che se gli dai una posizione normale di scacchi lui non sbaglia cioè lui magari non ti fa sempre la mossa più forte secondo il computer ma non sbaglia non sbaglia mai è imbattibile quindi l'unico modo per batterlo è provare a entrare in una posizione completamente folle dove anche lui può fare qualche errore ma chiaramente si alza anche la tua percentuale di errore se fai la posizione dove i pezzi sono a caso e tutto a caso è davvero una missione durissima batterlo devi trovare proprio la giornata storta sua e basta è l'unica ha guardato tutto degli scacchi tutto cosa suggerisci per diciamo per migliorarsi dal punto di vista dello studio come documentarsi come a parte appunto le lezioni che ci sono online ci sono un sacco di insomma di materiali c'è qualcosa in particolare che tu a parte allenarsi insomma a parte giocare ah secondo me quelle sono le due cose principali tre sono uno fare gli esercizi di tattica che sono sui siti tra l'altro chess.com questa settimana anche per chi non è diamond ha ha sbloccato gli esercizi per tutti i limitati perché di solito chi non è membro o chi non ha l'abbonamento non può fare più di tot al giorno quindi fare gli esercizi di tattica base quelli dove poi vai a conoscere i pattern che ti portano perché come dicevi tu prima sì magari arrivo in posizione vinta ma poi come la chiudo è un gran problema se non la sai chiudere no? prima l'hai chiusa molto bene in realtà hai fatto un po' ma come la chiudo poi in realtà è arrivata la martellata però va diciamo anche culo nel senso che in base al momento ecco cioè non c'è una vera nozione di come ci si muove per fare che cosa insomma eh sì cioè o tutte le volte ti basi sul tuo intuito e il tuo genio per chiudere la partita ma non è pratico perché una volta la trovi due volte magari la trovi la terza non la trovi oppure ti fai qualche esercizio e dove ti insegnano proprio i siti sono divisi per per livello proprio e ti danno queste nozioni e poi sì secondo me la cosa più più importante al di là della tattica è giocare tanto per fare esperienza così che è quello che mi ha portato in realtà a migliorare tantissimo perché a differenza degli altri bambini io giocavo sempre sempre tutte le domeniche giocavo tutti i weekend andavo a giocare tornei quindi quello aiuta e e poi sì libri videocorsi io consiglio più più videocorsi ormai perché i libri sono interessanti chiaramente però non lo so a me piace un po' di più il videocorso che è un po' più interattivo c'è la persona fisica che ti spiega sarà che adesso nel 2000 quindi sono influenzato un po' però sono un po' quelli ecco qui adesso questa però diciamo l'ho persa a long time ago questa qua questa la verità no 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 in realtà no questa si chiama l'infilata no certo ti vecchie lo scappo mazzette però diciamo quando arrivo in una posizione così lascia perdere contro di te voglio dire qualunque cosa non ha senso ma con un giocatore del mio livello scarso come me se lui ha re torre e un po' di pedoni e io resto solo re pedoni come dire il match è finito è stop o la giochi no 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 è finito perché un conto se è ancora un pezzo magari dove puoi fare qualcosa ma cioè quando si tratta solo di pedoni sono birilli alla fine vanno cadono l'altro in questo caso sto per cliccare abbandona ma se clicco abbandona dopo un po' c'è spunto com dice vabbè basta ma abbandoni sempre quindi ti bagniamo oppure abbandona fa parte del gioco uno abbandona no no fa parte del gioco però se abbandoni in posizioni normali se abbandoni la prima mossa sempre poi vieni bannato perché non rispetto il fair play giusto in questo caso cioè mi sembrava di essere partito relativamente giusto come come sviluppo non ho capito dov'è che mi son perso via allora hai perso un pedone una certa perché hai mosso il cavallo alla mossa 12 quando hai fatto cavallo e2 ecco qui l'ultima mossa che hai giocato appunto quindi vabbè dopo la 11 cavallo e7 esatto il cavallo protegge il pedone e4 giusto quindi tu l'hai tolto e vabbè comunque sì io te l'ho mangiato la mossa dopo in realtà e e quindi qua avevi del materiale in meno al posto di cavallo e2 la mossa che hai fatto dal momento che ci sono sì dopo esatto dopo cavallo e7 dal momento che ci sono solo cavalli dovresti cercare di portare i cavalli nei tuoi avamposti quindi il punto più avanzato che in questo momento le due case più avanzate difese dal tuo pedone sono d5 e f5 c'è anche b5 in realtà sì però b5 è lontana da tutto no? giusto serve a granché quindi avresti potuto magari portare il cavallo quello che è in f3 dall'ottima torre o quella sicuramente ma il cavallo eccola sì ok quindi una è quella sì e l'altra è giocare con l'altro cavallo e portarlo verso la casa f5 quindi fare una mossa al lato cavallo h4 che è davanti al pedone esatto che porta il cavallo al lato e quindi come sai non bisogna portare i pezzi sul lato della schiacchiera ma temporaneamente perché la prossima mossa lo porta in una zona pericolosa quella casa è critica in tutte le partite che abbiamo fatto è arrivato un cavallo lì e chi ha portato il cavallo lì quello che ha messo pressione ha vinto chiaro chiarissimo wow senti caro è stato veramente un onore oltre che che un piacere cercherò di immergermi e poi alla fine di questa settimana farò qualche match non so se vado di persona qua tipo al chess club di Brighton chiaramente giocare mica con professioni giocare con gente normale oppure sfido qualche amico appassionato di scacchi o qualcuno della mia community e così vedo se riesco già a fare un piccolo passettino in avanti ecco considerando che ho una carriera breve insomma ancora 5 anni e detto e poi ho finito insomma devo usare tutta la parte che ho attuale qualche suggerimenti finali consigli finali per chi è appassionato un principiante e vuole così cimentarsi in questo mondo ma secondo me molti vedono gli scacchi vogliono tutti migliorare secondo me alla fine bisogna solo divertirsi e giocare indipendentemente da da quello che è il il risultato quindi io starei più a guardare magari sì fare un po' di tattiche a tutto ma non prenderlo come un gioco perché il gioco se viene preso in maniera professionale come facciamo noi professionisti che siamo malati tra virgolette nel gioco è stressante è pesante è difficile poi siamo innamorati e vogliamo chiaramente migliorare però di prenderla proprio alla leggera trovarsi la domenica io quando ero bambino che giocavo solo per divertirmi senza grandissime ambizioni andavo la domenica a giocare il torneo quello che si chiamano semilampo dove siamo 15 minuti a testa ci si ritrovava tutti lì si faceva si faceva il torneo e poi tanti saluti quindi quello secondo me è il modo migliore di vivere gli scacchi caro grazie mille davvero ti terrò aggiornato sui miei sviluppi quando mi vedrai a 7000 ranking su chess.com saprai insomma che sono io cerchiamo di ribattere di prenderci la rivincita su tuo figlio intanto primo step questo è l'obiettivo numero uno grande ci vediamo alla prossima grazie ancora davvero grazie a te ciao